Solito ma chi se ne frega, tanto io non ho orari Quindi eccoci di nuovo su Ghost of Tsushima Vediamo un po' dove finiranno le nostre avventure Continuiamo le avventure di Jin Sakai Fantastico samurai dell'epoca Edo Che fra una spadata e l'altra, un bagnetto e l'altro Si diverte come un matto Vediamo un po' che missione dobbiamo fare va Ieri l'abbiamo fatta un bel po' eh Non ci possiamo lamentare Eccoci qua Che sexy che va Allora Vediamo un po' Uh, allora Questa zona l'abbiamo per quello che sembra momentaneamente ripulita Non vedo punti di domanda Quindi possiamo andare qui Il sangue sull'erba I capelli di Paia sono roni mercenari Dai modi alquanto rozzi Ma le loro lame potrebbero servirmi per salvare il Lord Shimura Devo cercarli e scoprire se sono in cerca di lavoro Pare che diano la caccia ai mongoli nelle praterie di Kishi Ok, ok Ci sta, dai Allora andiamo lì Questo è il prossimo obiettivo Un po' Alla prossima 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 Grazie a tutti. 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 e... a tutti. 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 un po' a tutti. 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 potrebbe essere. a tutti. 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 no. a tutti. tutti. ti. tutti. tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. tutti. . Grazie a tutti 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 Mi devo buttare nel fuoco? Eh? Che devo fare? Eh parla, micchia Accanto dal fuoco mi devo mettere per parlare con questa Si poteva girare, bravo, grazie per il rampino Caginawa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il rampino Grazie a tutti 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 No dai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sì. qualcosa non quadra qualcosa non quadra non quadra non quadra non quadra forse ci sia forse ci siamo quindi quel punto era una trappola era messo lì per presa per il cubo si 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 ci dovremmo essere se questo ponte non fa lo stronzo ci dovremmo essere si no che cazzo fa ma perché sei andato lì ma è incredibile ma è una cosa assurda ma che problemi hai ma non hai voglia di vivere dimmelo subito eh e non è normale quello che hai fatto roba sti cazzi vai non c'è voglia di vivere mi si è suicidato il personaggio è il cos'è che ti dico buono ammazzo non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è inks è è un'interessante perché non è un'unico Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. stavano? E tu li hai visti da là? Madonna, chi cazzo sei? Eh, hanno fatto un bel lavoro su questa cosa, molto carina sta cosa, per trovare tesori, non l'hanno gestita tanto ma qui spunterà di nuovo lo strozzo sicuramente, ah, siamo arrivati, e vai, siamo spuntati insieme, ovvio. Sicuramente, dobbiamo affrontarlo eh, dobbiamo affrontare il Tengu, a noi due, palordo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Grazie a tutti. I scompri sono epici, con queste musiche. Sono morto pure io? Siamo morti tutti? Danni e ingrandimento elevati, ma a lungo tempo di creazione. È possibile convincersi quando si muove? Ok. 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 il gatto che ti ammette di caricare le mie il rata lo stesso il rata lo stesso Perfetto ragazzi Per oggi la Tsushima è tutto Fanculo stronzi